Musica Un altro appuntamento con a tutto campo, il calcio direttante il meglio della settimana come ogni giovedì su Linese Channel, tanti gli argomenti anche stasera, servizi, approfondimento che faremo insieme ad un ospite come sempre, perché andiamo verso la settimana del derby Rivignano Teore, derby comunale, allora cerchiamo di capire come la vivono da quelle parti con un protagonista sicuro che è Pierpaolo Ponte del Teore, ingessato ma domenica mi dice già che ci sarà, infatti il sicuro vincere protagonista è un po' azzardato, speriamo, adesso apriamo questa parentesi, in teoria sabato accorzando un po' i tempi rispetto a quello che la previsione medica dovrei togliermi, me la strappo con i denti, via il gesso, perché questo derby non si può perdere, perché è proprio un evento meraviglioso, è una cosa, ne parlavamo spesso lunedì io e Claudio, ci troviamo Claudio Paroni, presidente del Rivignano, ci troviamo a bere il bicchiere e facciamo un po' il punto sulla giornata dei dilettanti passata e dicevamo proprio è un derby unico nel suo essere, perché poi è un derby fra amici, cioè spesso i derby hanno delle rivalità, delle accredini legate al passato eccetera, invece fra di noi proprio c'è grande amicizia, c'è lo sfottò ovviamente, già iniziato lunedì però è davvero... però poi siete amici, è un derby come vedremo nella clip, ce lo racconta proprio la clip, perché abbiamo ripescato dallo speciale realizzato Girono in Andata, e proprio alcune frasi che ci fanno entrare in clima, uguali e diversi Rivignano e Teor, perché uguale è il comune, ma diverse sono le squadre, no Pier? e allora adesso noi lo proviamo a riassumere con questa clip, poi lo raccontiamo insieme a te, facciamo il punto poi anche della situazione di questo campionato e del vostro campionato, uguali e diversi, ma domenica sarà sfida, lunch match delle 12.30, una novità per i dilettanti, Rivignano e Teor, ve lo... un anno che aspetta questa partita e ci troveremo pronti Sono Mario Anzil, adesso sono il sindaco del comune di Rivignano e Teor, già sindaco del comune di Rivignano e Teor, Fabrizio e Mattiussi, vice sindaco del nuovo comune Rivignano e Teor, chi vince? Il mio avversario? E' uguale Che secondo me il punto forte del Rivignano sono tutti i dirigenti, Teor è da mirare perché con poche risorse riesce a fare grandi cose Quanta gente ti aspetta? Ma gli alberghi in zona sono pieni Il paese non si parla d'altro a livello sportivo Penso che loro se ne metteranno anche di voglia, forse anche spero non più della nostra La nostra squadra darà l'anima per questa partita chiaramente, però questa è una partita particolare Nella partita della vita, però un derby così non c'è mai stato E l'andata si chiuse proprio con quel gol di Pinsin che andava a chiudere la nostra clip d'apertura Te lo ricordi bene no Pierre? Perché eri lì in quella zona Grazie della frecciata Ero vicino a lui, però è stato molto bravo ad anticipare il tiro Mi sento parzialmente colpevole, però è stato davvero bravo Senti si è chiuso sull'1-0, ma soprattutto come abbiamo visto dalla clip Questo è un derby, per un attimo fermiamoci, dopo parliamo del risultato e degli aspetti tattici È un derby che lo aspettano in tanti, è vero? Eh sì, è un derby dal significato sociale importante Non a caso abbiamo scelto di farlo in un orario particolare 12.30, ma perché? Definito il lunch match, il Thai match, a quell'ora lì si beve il bicchiere Perché la società di Rivignano ha ritenuto opportuno farlo in un orario che si stacasse un po' dalla routine Deciso il presidente Paroni Ovviamente tutto quello che accade a Rivignano lo decide Paroni E lui ha scelto di fare questo esperimento perché comunque sarà un'occasione anche conviviale Con le famiglie del comune riunite a pranzo E durante questo pranzo ci sarà il derby dei derby Insomma qui è un'idea carina Un'idea del vulcanico presidente Paroni che negli anni di presidenza ha sempre avuto molte iniziative Molte idee punta su questo orario una novità per il calcio diettantistico giocare di domenica alle 12.30 Noi lo abbiamo cercato di presentare per quello che riguarda anche l'aspetto emotivo Però nella clip trovavate anche poi la rete di Pizzini Quindi entriamo in campo naturalmente dopo aver sentito come lo vivevano all'andata Ma l'attesa è sempre la stessa a Rivignano Teor Poi ci sarà anche un servizio speciale che abbiamo pensato questa sera dedicato al derby Dopo lo vedremo Un servizio scritto da una persona speciale Pierpaolo Ponte lo abbiamo titolato però adesso entriamo sull'aspetto tecnico Allora testa coda comunale questo Rivignano Teor Questo derby comunale che però era uguale e diversi anche dicevamo Primo il Rivignano ultimo in questo momento il Teor Entro subito nelle tre domande che sono riservate alle ospite Per quanto ti riguarda fortemente concentrate sul derby Innanzitutto ti chiedo chi toglieresti al Rivignano in questo momento qua Beh toglierei Pagnucco Pagnucco perché lo considero un giocatore davvero bravo Un vecchietto terribile tra l'altro è della mia stessa classe Quindi come calciatore ripeto è davvero molto bravo E soprattutto come spirito è uno che caratterizza molto la sua squadra È uno che ci mette molto carattere Sprona sempre i compagni in maniera positiva Quindi averlo contro è comunque sempre un piacere Ma una bella sfida Ecco proprio restando questo titolo del testa coda comunale Vista la classifica Ti chiedo se è impossibile batterli in questo momento? Ma impossibile non è Io a Claudio Parogno ho detto Non vorrei mai trovarmi contro il Teor Anche questo Teor così dimesso Perché insomma un po' di problemi ne parlavamo Prima a Telecamere Spente Io e te li abbiamo avuti quest'anno Il crociato di Lunardelli Tibia e Peroni Delping La mia mano Un po' di cose le abbiamo avute Quindi siamo feriti ma non siamo morti ancora Siamo duri a morire Quindi secondo me in questo momento La classifica ovviamente ci sta penalizzando Perché molto è girato per il verso contrario Però io credo che il nostro spirito Possa mettere in difficoltà qualunque squadra Poi siamo momentaneamente ultimi Ma non ne eravamo mai stati prima di adesso Quindi vuol dire che è proprio un periodo Che ci gira un po' male Però abbiamo tanta tanta voglia di invertire la tendenza Quindi forse nel Rivignano non sarei così tranquillo Bello questo termine Feriti ma non morti Curioso proprio che il derby arrivi Con questa situazione di classifica Come a dire qualcuno si fa male Primo, ultimo Il risultato potrebbe far Sicuramente dispiacere Ad una delle due In un momento anche delicato della stagione Ponte Terza domanda Possibile allora Dall'impossibile al possibile Per voi salvarvi? Noi ci crediamo Adesso posso apparire Un visionario però Noi ci crediamo Perché è vero Adesso il nostro obiettivo deve essere per forza Quello più concreto e più raggiungibile Dei play out Però ci crediamo perché finora Siamo stati è vero Spesso sconfitti ma mai Travolti dai nostri avversari Ce la siamo sempre giocata Tu hai assistito qualche nostra partita E raramente siamo stati Proprio messi sotto dagli avversari Spesso e volentieri è stato l'episodio A penalizzarci Quindi alla luce di questo Alla luce del nostro carattere Indomito che è una caratteristica Da sempre del Teor Insomma noi ci crediamo E ce la metteremo tutta per farcela Al netto di tutte le difficoltà Che abbiamo avuto E dei limiti magari oggettivi Che sappiamo di avere Certo ecco Il campionato di promozione Per la prima volta nella sua storia Partecipa al Teor Lo sta affrontando Con grande caparbietà Possiamo dire Pier È ovvio che in questo momento La classifica non premia Sono più in questo momento Le assenze a preoccuparvi O le altre squadre O il ritmo delle altre squadre Vedi l'area anese che si è messa a correre È il sesto che in serie è utile anche Anche il sesto sì No è vero Noi siamo un po' in controtendenza Rispetto alle squadre Della bassa classifica Perché stanno facendo punti Mentre noi magari li avevamo fatti Un po' di più prima E adesso siamo un po' in difficoltà Però è vero che Veramente Questo non vuole essere una giustificazione Ma lo dicevamo prima Quando ti gira tutto male A livello di infortuni Di squalifiche Di pali E sulla ribattuta Ti vanno a fare il gol All'ultimo minuto Quindi è un periodo Un po' così Deve girare un po' il vento Quindi Questo ci preoccupa sì Però insomma Noi ci faremo Ce la metteremo tutta Con le nostre armi C'è da dire una cosa Che ne parlavo proprio domenica Che la promozione di quest'anno Io avevo fatto la promozione Personalmente nel 2000 Poi l'ho rifatta nel 2005 Con il perpegata Trovo Sono un po' in controtendenza Rispetto a quello che dicono tutti Che il livello del calcio Si è abbassato In realtà Forse a livello tecnico sì Ma a livello di ritmo Di aggressività Di organizzazione tattica Io trovo Una promozione Molto evoluta Rispetto agli anni passati Non solo la promozione Che quando vedo Le tue dirette Delle eccellenze Eccetera È vero che magari C'è più difficoltà A trovare il giocatore tecnico Perché ci sono meno spazi C'è meno Possibilità di giocata Però veramente il ritmo E l'intensità di gioco È alta C'è Ecco In questo momento Voi avete anche avuto Un calendario non facilissimo Perché Domenica scorsa Il fiume Veneto bannia Squadra che Tremendamente in crescita E adesso arriva Rivignano All'ilà del fascino Del derby Che c'è tutto Lo sappiamo Voi Rischiereste Magari di fare Uno sfavore Ai vicini O meglio Ai Diciamo Agli abitanti Gli stessi abitanti Perché siete lo stesso comune Rivignano Teor Rischiereste di fare Uno sfavore Appunto a Rivignano Non siete riusciti A battere Il fiume Purtroppo Ma adesso Conta solo fare punti No? Non si guarda Vicino a casa Assolutamente no Ce l'abbiamo messa tutta Per fare un favore A Rivignano Perché poi anche col fiume Che è una squadra Molto attrezzata Ce la siamo giocata Abbiamo avuto la palla Per andare in vantaggio E poi Ci siamo rimasti in dieci Poi in nove E abbiamo perso la partita Però insomma In questa partita Penso che anche loro Lo sappiano Non si guarda in faccia a nessuno Anzi potrebbe essere L'occasione proprio Della svolta Perché riuscire a fare risultato In un derby Potrebbe darti quella Ulteriore carica morale Che serve Che serve Mentre voi Non riuscivate a battere Il fiume Il Rivignano Vi ha fatto una sorta di favore Perché ha tenuto calmo Il Bannia Altre due squadre Da derby Che abbiamo già raccontato Di cui ne abbiamo già parlato Adesso tocca a voi E c'è un giocatore Che sta facendo molto bene Però È andato in gol Anche domenica Che è Zanin Decisivo nel 1-0 Abbiamo le immagini Abbiamo recuperato L'immagine del gol Non è perfetta Vi chiediamo scusa Però si riesce A intuire A capire Che tipo di giocata Ha fatto Zanin E per quello La proponiamo lo stesso Anche se non è Perfetta Come ripresa E ringraziamo A prescindere Il Bannia Ecco Zanin Un altro dei giocatori Che sta bene Dimmi perché Dimmi se secondo te In questo momento Hai visto il fiume E conosci bene Il Rivignano Dimmi come vedi Questa lotta Tra le due Che secondo me Se lo giocheranno Poi chissà Sì Anche secondo me Quelle lì Sono le squadre Un po' più strutturate Ci metto anche il Flaibano Però veramente Ha una serie negativa Abbastanza lunga E preoccupante Sì Ma io Adesso poi A Rivignano Si toccheranno Ovviamente Io penso A parte tifo ovviamente Per il Rivignano A parte domenica Perché è una squadra Dove ho molti amici È una squadra Decisamente simpatica Quindi io tifo per loro Ma credo anche Che a livello Tecnico E soprattutto morale Abbiano qualcosina In più rispetto Al fiume Il fiume ha Molte individualità Molti giocatori bravi Forse anche di categoria Superiore Però Lo spirito del Rivignano È anche quello Di essere molto squadra Di darsi una mano Hanno qualche vecchietto Che serve Esatto Quindi secondo me Potrebbe essere Potrebbe essere L'anno del Rivignano So che si staranno toccando So che poi Mi Fucileranno Se non dovesse andare bene Però io Io punto Sul Rivignano E sono in tanti Ormai che cominciano A puntare Sul Rivignano Per la vittoria Di questo campionato Uno però Dei bravi giocatori Dei grandi giocatori Del fiume È tra i tre Che hanno siglato I migliori gol Di questa settimana Ma ce li vediamo E poi Li commentiamo Con Pierpaolo Ponte Il nostro ospite di oggi Migliori gol Del calcio Direttanti Raccolti Da Da noi Nella nostra clip Il nostro ospite di oggi Lo puoi con sinistro La giocata di Etri Questi sono i tre bomber I tre gol più belli Ponte quale sceglie? Allora Quello di Francescuto L'ho visto Dal vivo Ed è veramente Un gol straordinario Però non lo posso votare Perché l'ha fatto La mia squadra Perché sarebbe Un dolore Troppo grande No Scelgo quello di Etri Perché è un gol Difficile Non banale E soprattutto Perché mi sembra Che lo stesse marcando Il mio amico Enzo De Nicolò Quindi far gol A un difensore bravo Come Enzo De Nicolò Aumenta il coefficiente Di difficoltà Quindi scelgo Quello di Etri Ecco Ponte Tra l'altro Conosce un po' Tutto Il calcio dei tanti La proposta ufficiale È che quando smetterà Di giocare Diventi opinionista Per le mie trasmissioni Quindi fra 12 anni Sarò Ma così tanto Ma quanto volete giocare Anche voi Proprio la passione infinita La passione infinita Tu non esiste Che smetti No Ma sai che Io sto cercando Di opinionisti Bravi No no Ma io Quando vuoi Ci sarò Anzi più che volentieri Però sai che C'è una frase Che senza una guerra Da combattere Un guerriero Rischia di morire E allora io capisco Chi come me Alla mia età Abbiamo citato prima Pagnucco Non riesce a smettere Perché ancora La passione è tanta Quindi finché c'è la passione Perché negarsi Questo Tu quindi Diciamo sei Per il modo di giocare Un guerriero No L'altro invece Che ha una infinita Passione In una sorta di Battaglia Lo vedrei più Come un arciere Per i colpi Che ha Che è Lunardelli Che purtroppo Invece lui Non ce la farà Recuperare per il derby No lui E Del PIN Che citavamo prima Hanno avuto due infortuni Molto gravi Lunardelli I crozzati E Del PIN Quanto sta male? Del PIN Sta molto male Ma sta Sta molto bene Di spirito Perché è un ragazzo Eccezionale Anzi Colgo l'occasione Per fargli complimenti Per come ha preso Questa cosa Perché molti altri Si sarebbero Demoralizzati Lui invece Veramente Sempre su di morale E ne abbiamo parlato Anche Lunardelli 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 Se potesse Giocherebbe Con una gamba solo Questo sono sicuro Basta di pensare Che a 41 anni Sta facendo Tutte le terapie Sta facendo la palestra Perché lui Non vuole smettere Non vuole smettere Lui il prossimo anno Deve per forza orientarsi Anzi Lo ringrazio Perché altra cosa Che mi piace sempre Sottolineare Teore è una delle squadre Che collabora Anche se sei ultimo In classifica Le cose non funzionano Magari per il Però Ecco La voglia di collaborare Per fare Per migliorare Questo prodotto Per far vedere Il calcio direttante Ringrazio lui Che mi ha aiutato E con me In questa collaborazione Ha detto subito sì E il Teore Naturalmente La dimostrazione Facevo lunedì Un discorso Proprio in trasmissione Per la promozione Girone B Che non c'entra La classifica Non c'entra Dove sei Si può sempre collaborare Insomma Per questo Io credo sia Doveroso Lo diciamo sempre Nei chioschi A fine partita È un onore Un orgoglio Essere trattati Come dei professionisti Qui dobbiamo Ringraziare te Le persone che Lavorano con te Quando In realtà Non lo siamo Siamo dei dilettanti Che però Hanno la stessa Dignità Che altre Trasmissioni Altri canali Dedicano ai professionisti Quindi per noi È una cosa È una gioia Immensa Anche perché Grazie a questo Impegno Si possono vedere Giocate come quelle Di Francescutto E tante altre O come le parate Che vediamo adesso Le tre Migliori giocate Dei portieri Stavolta Vediamo Ecco questi I portieri Dico solo una cosa Benedetti abbiamo messo Calcio di rigore Portieri della San Vitesse Perché credo Sia difficilissimo Comunque andare A prenderla lì Le ha fatte però Altre due Tre Bellissimo È stato forse Il portiere Della giornata Benedetti Nello scontro Salvezza Gradisca È stato decisivo Ponte Quale dei tre Quella lì È una parata Assolutamente Tecnicamente Difficilissima Quella di Nardoni Probabilmente È la più Spettacolare Però io scelgo La terza Quella di Buso Un po' perché Nicola Lo conosco Insomma E mi fa piacere Che aveva fatto Una parata Così difficile E due Perché ha un significato Secondo me Molto importante Perché è andato A salvare un risultato In una partita Che potrebbe poi Rivelarsi decisiva Per il titolo È vero È vero Salva il risultato Mi piace tantissimo La parata di Buso Anche se poi Come hai detto Noi abbiamo sentito Quella di Nardoni Anche perché Spettacolare Fatta a Fabbro A Carlino Cioè quest'oltre È in difficoltà Ma sta mostrando Un portiere davvero Di qualità E lo rimostrano Varie parate Quella di Buso È bella perché Comunque Va giù All'ultimo secondo E per quello Può parare Perché sta in piedi Fino alla fine Quindi È vero Quello è il gesto Che mi è piaciuto parecchio Cioè tre belle giocate Tre gol Molto belli Tutto potete poi rivedere Vi ricordo anche Col nostro sito Tutto campo Punto tv Trasmissioni Servizi Varie cose Proprio Dopo la pubblicità Prendiamo spunto dal sito Per le varie notizie Che abbiamo riportato In settimana Per approfondire Alcune delle tematiche Poi torniamo Naturalmente A parlare Di derby Rivignano Teor A fra poco Rientrati A tutto campo Il meglio L'approfondimento Del giovedì Le migliori immagini Le migliori immagini Del weekend Direttantistico Da noi Raccontato Ma naturalmente Poi Lo sguardo Al prossimo turno Prima di Concentrarci Sulla ventunesima Giornata Del calcio Direttanti Andiamo a Toccare Anche alcuni Degli argomenti Usciti Questa settimana Con il nostro Ospite Pierpaolo Ponte Difensore Del Teor Diamo uno sguardo Al sito Proprio al nostro sito Tuttocampo.tv Che vi proponiamo In copertura Con il montaggio Di Francesco Zilli Scorrendo le notizie Tra le altre Tra le altre Curiosità Verrillo Goleador Del Del Chions Abbiamo visto Già nei migliori gol Sigla Ma non esulta Però abbiamo mostrato Nel sito Come invece Da ex Segna sempre Le sue squadre Segnò Invece a Carlino Esultando Cose che trovate Nel sito E poi arriviamo Alla notizia Che scorrendo Avete già visto Del Brian Che ha Accettato Le dimissioni Di Mr. Verri Ed è arrivato Muzzing Pierpaolo Ponte Prima di commentare Questa notizia Che la approfondiamo Ti chiedo solo Una battuta L'ex Che esulta Che non esulta Come la veri tu Tra le mille versioni No Io vorrei che Gli ex esultassero sempre Sempre Verrillo invece Visto nella clip Che proponiamo Che puoi vedere Nel sito Anche A Carlino Esultò Addirittura Tornandosi la maglia L'Umignacco Invece Si vede che c'era Qualcosa Di diverso Nei rapporti Nei rapporti Probabilmente si Qualche rivincita L'Umignacco Ha scelto Di non esultare Per un gol prezioso Invece La notizia Dicevamo Tra curiosità E notizie Il nostro sito Lì a tutto campo Muzzing Albrian Verri Direttore sportivo Ci chiediamo Nel titolo Questa squadra Funzionerà La domanda è Squadra Ha un po' Di Due Due significati Una nuova squadra Dirigenziale C'è il presidente Chiendotto Nel nostro titolo Naturalmente lui c'è sempre stato Ed è la certezza Del Brian Il nuovo arrivo Di Muzzing La figura Del DS Che adesso si isola Quello allenatore Di Verri Funzionerà la squadra Dirigenziale Funziona quella squadra Che è in campo Perché il Brian Ha cambiato Ha cambiato qualcosa A livello dirigenziale A livello di squadra Ma non in campo Adesso però Ci sono tanti punti Di domanda Ponte Da avversario Come vedi Questo Brian Come l'hai visto Ma noi Quando abbiamo giocato contro Abbiamo Lo dicevamo prima La sfortuna Abbiamo perso 1-0 Una partita abbastanza Sfortunata Su un episodio Poi c'erano state anche Qualche Qualche Occasione Più o meno chiara Di calcio di rigore A nostro favore Quindi è stata una partita Condizionata molto Dagli episodi Al netto di questo Ovviamente il Brian È un'ottima squadra Con degli ottimi giocatori Però ecco Il concetto di squadra È quello secondo me Dove c'è da lavorare Lo dico da esterno E lo dico con il massimo rispetto Ci mancherebbe altro Nel senso che Ovviamente Da osservatore O da avversario Vedo che ogni anno Brian si rinnova molto Nell'organico Nello staff Più o meno Tecnico E sai Per fare calcio Ai nostri ribelli Ma non solo Ai nostri ribelli C'è bisogno Di quell'amalgama Che ti viene solo Creando un gruppo storico Creando un gruppo Anche di amici Creando Creando proprio Il concetto di squadra Quello che un po' Si diceva prima Del Rivignano È che un po' Abbiamo anche noi A teore Ed è una cosa Che ci vuole tempo E cambiando spesso Diventa secondo me Un po' più difficile Riuscire ad ottenere Questo Questo Verdi Ormai Ex-Ministro Ha detto Ha fatto anche Il direttore sportivo Lui Ha vestito Due panni Diciamo così Quello di Di esse E di allenatore Ha separato La carica In questo momento Dice Però sono rimasto Pazienza E non volere Tutto subito Se magari Questo Briand Sia squadra Dirigenziale Sia squadra in campo Ritoccata Amalgamata Potrebbe essere La protagonista Della prossima stagione Precenico Non sono d'accordo Non sono d'accordo con questo Però Cosa ne pensi Io invece Sono assolutamente d'accordo Tutte le cose Per crescere Per svilupparsi Hanno bisogno di tempo Una squadra di calcio Non fa Eccezione a questa regola E io ti dico Negli anni Le squadre più forti Dove ho giocato O Che ho affrontato Non sono state quelle Con i nomi più altisonanti Ma quelle che avevano Il gruppo Più compatto Che erano più Torno a dire Squadra Rispetto alle altre Quella è veramente La componente Che consente Poi di ottenere Dei risultati Anche superiori Al valore oggettivo Della squadra Il Briand È una squadra Con un grosso potenziale Tecnico Però Non riesce ad esprimerlo Secondo me Appieno Proprio per questo motivo Quindi alla nostra domanda Questa squadra funzionerà Per te può essere sì Ma Non da subito Bisogna avere la pazienza Di lasciarla Crescere Chiaramente vedremo Se invece Muzin Riuscirà a forzare i tempi E dare già Quest'anno Quei frutti Che la società vuole Vuole la promozione Naturalmente a questo Punto Bisogna passare Nei playoff Playoff non così facili Da raggiungere Anche perché Lo abbiamo detto prima Parlando delle squadre Che abbiamo approfondito C'è un porcia Che corre Cinque vittorie In ultime sei partite Brevemente Ecco il porcia L'ho affrontato Era una squadra Anche con loro Abbiamo perso Ovviamente 1-0 Ma è la costante Di quest'anno E ovviamente Su autogol Va bene Però È una squadra Mi ha impressionato Proprio lo spirito Che hanno dei giocatori Molto meno dotati Secondo me Rispetto a quelli Del Brean Che sono dei nomi Insomma Importanti Però veramente Tutti si aiutavano Molto stretti e corti Quindi torno Un po' Il concetto Di cui parlavamo Prima Insomma Quell'essere gruppo Con l'essere gruppo Il Teor Cercherà di battere Quell'altro gruppo Molto forte La promozione Gironea Che è Rivignano Noi adesso Vi proponiamo Un servizio Che io riferirei Speciale E credo Di trovarvi Tutti d'accordo Perché C'è una persona Fortemente legata Sia a Teor Che a Rivignano Ha giocato A Teor Ha giocato a Rivignano Nella sua carriera Calcistica Ha segnato Valanghe di gol All'andata Era presente Insomma Era un ospite Un tifoso Davvero speciale Stefano Marangone E noi A lui Abbiamo chiesto Di scrivere Le sue sensazioni Per questo derby Ricordando appunto Anche quello visto A Teor Nel girone D'andata Stefano Marangone La voce Naturalmente È la mia Ma il servizio È assolutamente A sua firma Sentiamo E poi rientriamo in studio Quando lo scorso ottobre Sono arrivato nel campo di calcio di Teor Ho provato Una forte emozione D'altronde Erano 13 anni Che non andavo In un campo di calcio Innanzitutto Devo dire Che la tribuna E gli spogliatoi nuovi Sono stati fatti bene A Teor Ho passato Uno splendido anno Che mi ha permesso A 35 anni Di vincere La classifica Dei capocannonieri Per la seconda volta A distanza Di 12 anni Dalla prima Peccato solo Che quell'anno Fallimmo Di un neante I playoff Ma veniamo A Rivignano Ho passato Degli anni belli Soprattutto Per l'ambiente Che ho trovato Come non ricordarsi Le cene in allegria Del venerdì O la pasta asciutta Della domenica Dopo la partita Mi piacerebbe Che l'ambiente Sia rimasto Quello di allora Il derby d'andata Mi ha deluso Tecnicamente Mi aspettavo Di vedere In promozione Trame di gioco Più lineari Più passaggi Palla a terra Non solo Lanci lunghi So che Il Rivignano Gioca meglio Del derby d'andata Altrimenti Non sarebbe Primo in classifica Mi dispiace Che il Teor Sia ultimo Ma chissà Che il riscatto Non possa avvenire Da una buona prestazione Proprio Nel derby di domenica Firmato Stefano Marangoli Questa La lettura Di Stefano Un derby Speciale Visto Da una persona Speciale In questo momento So che Stefano Ci guarda Lo salutiamo Combatte D'anni Con la Sla Noi lo ricordiamo Con questo servizio Vogliamo anche dire Stefano È uno che C'è ancora E come E può dire La sua Del calcio Perché è stato Anche un grande giocatore Pier Io lo ricordo Adesso L'avevo marcato Io ero un giovane Stopper E lui era già Un navigato Centrovanti Fai più bravi Insomma Che c'erano All'epoca Era veramente Un attaccante Molto Molto forte E mi ricordo Che l'avevo marcato A suo tempo E glielo ho ricordato In un'occasione Perché Nel mio paese Io sono di Ronchis Viene fatto Da molti anni Da decenni Un torneo Delle borgate E negli ultimi anni È stato dedicato A lui E tutti i fondi Raccolti Vengono donati Alla ricerca Contro La SLA E lui è sempre Stato ospite Del torneo Ha sempre presenziato La finale E se non ricordo male Due anni fa La mia squadra Ha vinto E abbiamo voluto Donare a lui La coppa Ed è un ricordo Che proprio È stato molto bello Perché lui E sua moglie Sono stati Davvero molto Delicati E veramente È stato Un momento Da ricordare Ecco Io ringrazio Paola e Stefano Che hanno citato subito Questa mia idea Di far Raccontare anche lui Questo derby Io ci tenevo Parecchio Questa cosa E li ringrazio Sei d'accordo con lui Quando dice che è all'andata Però Ha detto Mi aspettavo di più A livello di gioco Per la promozione All'andata Ha detto Sì È un po' Il discorso Che facevamo prima È vero che forse Le giocate si vedono Un po' meno Rispetto a qualche anno fa Perché c'è molta più Come si diceva prima Intensità Poi in un derby Come quello di l'andata C'era un pochettino Di timore Da parte di tutte e due Le squadre Quindi è ovvio Che magari lo spettacolo Ne ha un po' Rissentito Ma penso che Nel ritorno ci sia Un po' meno da perdere Sicuramente Da parte nostra E quindi si vedrà Uno spettacolo Secondo me Ancora migliore Tu dici una partita Ancora un po' più divertente Non è stata Molto divertente Questa è stata molto tattica Me la ricordo È stata decisa Veramente da un particolare Sì Noi Come ti dicevo Stiamo preparando la partita A viso aperto Nel senso Avremo Abbastanza poco Da perderci Nel senso che È inutile Che difendiamo Un risultato Che poi può essere Messo in discussione Da una giocata In qualunque momento Città di prima Zanima Ne hanno tanti Insomma Quindi cercheremo Di affrontarli A viso aperto E con le nostre caratteristiche Che non sono sicuramente Quelle Del tiki-taka Per dirlo Però insomma Della grinta E dell'agonismo A mezzo giorno e mezzo Allora Quando mangerai? Come professionisti Vedi? Questa è una bella domanda Non ci avevo ancora pensato Dai Ci penserò Non ti chiedo Cosa faremo Cosa farete dopo Quella è la vera domanda Potrei Astenermi Dal pranzare Perché tanto dopo La partita Ci sarà modo e tempo Di recuperare abbondantemente Anche perché sì Sarà una festa Quello è sicuro Questa è l'unica certezza Del derby Il risultato è incerto Ma quella è una cosa Sicura Rivignano Teor Apre insomma Con le mezzogiorno e mezzo Un po' una domenica Interessante Nella nostra grafica Il meglio Della ventunesima Giornata Diciamo Dalle 12.30 Quante sfide Verità Almeno secondo noi Perché domenica Rivignano Teor Cerca delle verità Di classifica Per la prima Ma anche per l'ultima Come ha detto Ponte Ma poi Questi incroci Fiume Veneto Bannia Briand La seconda Che deve continuare a correre Contro il Briand Che appena ha cambiato panchina E se vuoi la verità Devi cominciare a far bene subito Il Fleibano Cerca risposte Col Porcia Che sta benissimo Insomma Una promozione Gironea Interessante Davvero intensa Però avete visto In eccellenza C'è anche Vesna Charlize Muzzane Charlize che deve continuare La corsa Il Vesna che vuole capire Quanto può essere Protagonista In alto classifica Anche nel girone Di ritorno E poi Promozione Girone B Torreanese Ronchi Sfida salvezza Sfida verità Sei d'accordo? Eh sì Sì perché Anche in quel girone lì La classifica dietro È cortissima Un po' come Come la nostra E quindi sì Cormonese Torreanese Sono tutte Ronchi stesso Sono tutte nella bagarre Quindi lì Gli scontri diretti Possono davvero fare Far la differenza Ecco anche perché poi Piero Parliamoci chiaro La verità Si comincia A intravedere Più in queste giornate qua Sono d'accordo Ma è febbraio-marzo Sì è vero Secondo me adesso I giochi Si fanno proprio adesso Ripeto Gli scontri diretti Saranno decisivi Sarà importante Parlo per realtà Come la nostra Rimanere aggrappati Al treno dei play-out Che comunque Sempre Un'ulteriore possibilità Di rimanere in categoria Credo che i due gironi Di promozione Siano abbastanza simili Sotto questo aspetto Per quanto riguarda La zona retrocessione Sono molto divertenti Per quanto riguarda La promozione Eh sì È vero Sempre interessante Questa categoria Assolutamente Io ringrazio Per Paolo Ponte E ci vediamo Domenica alle 12.30 Alle 12.30 E fino a tardanotte Penso Eh io non posso Però dai Degli impegni professionali Va bene Peccato Grazie Pier Grazie mille a te Alla prossima Sudinese Channel Lunedì alle 19.50 Non mancate Condirettanti in gol Adesso vi lascio Con tutti i gol Della ventesima giornata Ciao Alla prossima Grazie per la visione 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 Grazie per la visione